Il presidente Semeraro parte da un presupposto, lui è convinto che la squadra l'anno prossimo giocherà il campionato di serie B. Poi vedremo se partiremo da zero o da meno qualche cosa. Sono convinti di rimanere in serie B e comunque ritengono la trattativa viva anche nel caso in cui dovessero inserire nel contratto di chiusura l'opzione catastrofe. Lo afferma il sindaco di Lecce Paolo Perone a termine dell'incontro con il patron della società giallorossa Giovanni Semeraro accompagnato a Palazzo Carafa dal figlio Pierandrea, ex presidente, il quale non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Il patron del Lecce più di un anno fa aveva annunciato il disimpegno della sua famiglia dal calcio ma finora a farsi avanti è stato solo Savino Tesoro, imprenditore siderurgico. Siamo in trattativa, lui dice di sì ma le condizioni sono inaccettabili. La situazione di crisi certamente non invita anche imprenditori appassionati a fare questo passo però c'è qualche interesse esiste. Ovviamente io aspetto di verificare il risultato della trattativa con Tesoro per poter chiamare all'assunzione di responsabilità generale la comunità dei Leccesi e dei Salentini. In settimana si dovrebbe sapere come finirà la trattativa con i Tesoro. Se non dovesse chiudersi positivamente Semeraro potrebbe consegnare il titolo nelle mani del sindaco. Figurativamente significa sindaco la società tieni, vedi tu se c'è qualcuno che la vuole prendere in casa. Il presidente Semeraro nel momento in cui dovesse fare un passo indietro senza che ci sia un interlocutore la società rimane in piedi, cioè la società rimane in piedi, iscritta e senza debito. Questo è chiaro. In questo momento è lontanissima l'ipotesi di un falimento della società giallorossa che permetterebbe comunque ad un nuovo sodalizio di non tener conto dei contratti che legano molti calciatori all'attuale società.